Quel giorno, riaffiorò alla mente dell'umanità. La consapevolezza che questa scena non può più essere presa sul serio dopo tutte le parodie. I giganti ci mangeranno perché siamo come bestie! Ma ci abbiamo i muri! Non è possibile che entrino dalla porta d'ingresso. Almeno credo. Oddio, dobbiamo salvare mamma! Eren, datti una mossa! Non vi preoccupate, adesso ci penso io! Forza, grazie a Dio! Va bene, devi aiutare Eren! Cazzo, gambe! Hans, ma che cazzo? Hans, mia madre! Fa un culo tua madre! Fa un culo te, Hans! No! Oddio, non era questo a cui pensavo quando ho clicato sul link? Chega! Bella! Eren, come ti senti? Io giuro che ucciderò tutti i giganti! Ma non prima di ballare sulle loro tombe! Quando farò il bagno nel sangue dei giganti che ho ucciso, loro ricorderanno il mio nome! Tutti fino all'ultimo! E sai perché? Stai urlando ancora? Cazzo, attriverso! Già. Tutti i giganti moriranno per mano mia! Quest'ora! Sono passati due anni, cazzo! Chiudi quella merda di bocca! Eh? Allora... Ti piacciono i giganti? No, che si fattano tutti! Non cederò mai! Benvenuti all'Accademia Militare! Tutto questo addestramento sarà probabilmente inutile perché il 90% di voi morirà comunque! Personaggi tristi, presentatevi! Io sono un meme di internet! Io da gigante ho un culo fantastico! Io verrò dimenticato! Io rimarrò in vita! Troppo presto! Beh, io diventerò un personaggio davvero interessante! Stazzetto, Gino, Jeanne! Torna quando sarai un protagonista! Ehi, fermi un attimo! Io compaio spesso! Non starlo a sentire! Tu sei il mio protagonista! Stazzetto, Marco! Torna quando non sarai un personaggio sacrificabile! Troppo presto! Congratulazioni per il vostro diploma! Ora siete ufficialmente carne da cannone certificata! Ora ho tutto quello che serve per uccidere i giganti! Veramente a quanto ne so la pazzia non è considerata un'arma! Non starla a sentire! Quegli stupidi giganti non hanno chance contro di me! Perché non provi dirmelo in faccia, razza di puttanella? I giganti ci stanno infotando! È ora di combattere i giganti! Sono un po' intimorito all'idea di combattere i giganti! Sono in forte disaccordo col tuo sentimento! Perché stiamo urlando? Non lo so! Non è così che comunichiamo in questa serie! Cosa? Ti ucciderò dal primo all'ultimo! Con le denti giganti! Cosa? Ragazzi me la sono fatta sotto! Ma che cazzo sono tutti morti? A parte me perché sono il protagonista! Sì, il tuo ragazzo fratello è morto! Ehi, non è il mio ragazzo! Non ancora? Che schifo! Almeno sai perché tengo così tanto a lui! Tieni Mikasa, una sciarpona stupida! Oh mio Dio, non ci credo, mi ha dato una sciarpa! Profumo, magari se la porto abbastanza a lungo mi noterai un giorno usciremo insieme e ci sposeremo prima dei figli! Ti piace? Ah, ci sta! Esatto! Che senso ha vivere adesso? Ehi, avete visto quel gigante? Cosa pensate potrebbe essere? Aaron? Aaron? Direi Aaron! Sul serio, chi altri potrebbe essere? No, andiamo, sarebbe troppo ovvio! Oh, guarda, era proprio Aaron! Non ci credo! Oh, no, no, non lo sapete proprio, incredibile! Oh, ma che sorpresa! Andate a fanculo! Avete esattamente 5 minuti per darci una spiegazione prima che vi facciamo saltare in aria! Armin, tutti pensano che io sia una minaccia per l'umanità, ora sta a te convincerli del contrario, mi fido di te! Non sparate, imbecilli! Forse invece di uccidere la nostra unica speranza, potremmo usarla per richiudere il muro! È un ottimo piano, signore, dovrebbe dirlo a tutti quanti! Giusto! Ascoltatemi! Ci riprenderemo le mura dalle grinfie dei giganti! Quindi ecco il piano! Quello che faremo è... Ascoltatemi! Si rende conto di essere a 50 metri d'altezza, sì? Prendetegli la vita e capovolgetela sottosopra! Alla principe di Belair! No, non ne ha idea! E questo è il piano! Qualcuno ha qualche domanda? Cosa? Allora è tutto chiaro? Fare incazzare l'Eren gigante con se stesso così si dà un pugno in faccia da solo? Sì! Ehi Eren, indovina! Sei un gigante! Oh aspetta, forse dovremmo fargli portare il macigno! Spostatevi ragazzi, questo coso è davvero pesante! Scusate! Dovrei passare! Dove mi trovo? Aspetta, voi siete... Corpo di ricerca! Regime esplorati! Legione ed esplorazione! Armata di ricognizione! Quello che è! Esatto! E io sono il capitano Levi! Eh, cos'era quello? Lasso stare! Allora Eren, ti ricordi della chiave che apre il tuo scantinato e che sarà un grosso punto della trama da adesso? Ti va di dirci cosa c'è dentro? Sì, me lo ricordo! Me lo disse mio padre! Ehi papà, che c'è in cantina? Figliolo è una cosa che si chiama leggiti il cazzo di manga! Porca vacca! Ogni cazzo di volta! Va bene, e ora il caso dovremmo uccidere Eren Yeager o no? Le due parti sono pronte a dire la propria? Uccidetelo! Non uccidetelo cazzo! Grazie! Conventi convincenti, che cosa ne pensa il culto delle mura? In quanto devoto delle mura è nostra credenza che ogni oggetto esterno sia una grossa minaccia per tutti noi! Come proclamato tempo fa dal nostro fondatore e profeta supremo Lord Trump! L'accusato ha qualcosa da dire? Ok Eren, puoi uscirne alla grande come sai fare solo tu! Urlare un sacco forte risolve la questione! Oddio sì! Basta! Ah sì! Basta! Basta! Mi piace un sacco! Basta! Capitano, Eren sta piacendo! Eren, basta godere! Basta! Ancora sì! Eren! Ma è così che le pervertite hanno visto questa scena? Sentite, adesso basta! Propongo che d'ora in poi Eren rimanga sotto la mia privata supervisione, sempre! Oddio sì! Caputana! Approvato! Con la consapevolezza che tutte le fan ora pensano che tu abbia uno strano rapporto sadomaso con lui! E ora che la questione è risolta ti presento la squadra! Morto 1, morto 2, morto 3 e Petra! La gente importa di me solo perché sono carina! E lei invece? I giganti mi arrapano! Ma ho sentito bene? Sì! No! Adesso basta! Corpo di ricerca in marcia! Ma prima! Puliamo! Oddio vederti pulire mi fa bagnare tutto! Cosa? Cosa? Aspetta, per quanto ancora cavalcheremo questi cavalli? Tipo 5 episodi o giù di lì! Cosa? Come siamo passati da interi anni in un singolo episodio a passare metà serie su dei cazzo di cavalli? E oltretutto, di che parla questa metà? Quella gigante c'ha un bel culo! Ma che cazzo è quella? Non temere Eren, fa tutto parte del piano di Erwin! Fa tutto parte del piano di Erwin! Missione compiuta! Missione fallita! Squadra Levi, prendetela! Oh no! La squadra di Levi è morta! Petra, no! Bel pugno, coglione! Oh mio Dio, Eren, la smetti di farti mangiare, sì o no? Oddio santo, ma devo sempre fare tutto io! Beh, non so te, ma io questo lo chiamo un fallimento totale. Un'altra giornata nel corpo di ricerca! Tutta la mia squadra è morta! So che siamo tutti un po' giù di morale, ma abbiamo capito che Annie è la gigantessa, anche se era completamente ovvio per gli spettatori da casa, anche per i ciechi, e un piano a prova di bomba per tenderle una trappola! Qual è il piano? Annie, vieni con noi, dai, dai, dai! No. Non ha funzionato! Panneggia il Wall Maria! Eren, sarebbe ora di incazzarsi. E questo il mio segreto, capitano? Sono sempre arrabbiato. Dio, fa un sacco male, Dio, Dio, Dio! Doveva succedere qualche cosa? Non lo so, è che mi sembrava molto figo da fare. Dai, io ci riprovo! Dio, Dio, fa ancora più male adesso! Eren, diventa un gigante! Si sto provando, ok? Non ci stai provando abbastanza! Che cosa vuoi che faccia? Oddio, sta zitto, Eren, ed entra subito nel gigante! Si sto... Sono io o sembra una scena di sesso violento tra giganti? Dio, non renderlo strano, Armin! Ok, Annie, sei esattamente dove ti volevo! Ma che cazzo è sta merda? Si... tu si citto! Beh, Erwin, in pochi giorni sei stato responsabile della perdita di centinaia di vite, di inquantificabili danni collaterali e tutto ciò che hai, un prigioniero che non posso toccare? Hai qualche cosa da dire? Un'altra giornata nel corpo di ricerca! Perché hai lasciato morire mia mamma, bastardo? Mi dispiace, ok? Conosco solo la tecnica segreta della fuga! Era per caso una JoJo's reference! Eren, ma di che cosa stai parlando? Tua madre è morta! Non c'è tempo per una JoJo's reference! C'è sempre tempo per una JoJo's reference! Va bene, ok? Stavo facendo una JoJo's reference! Oh no! Oh my god! Ma che cazzo succede? Grazie a tutti per aver visto questo video! Come sempre vi invitiamo a condividere il video ai vostri amici fan dell'attacco dei giganti e di lasciare un bel mi piace, un commento se vi è piaciuto oppure no! E niente, ci vediamo settimana prossima con un nuovo doppiazzo e soprattutto ci vediamo il 17 giugno all'Arcadia Comics di Melso, al Cinema Arcadia, dove io e Chiara faremo una bellissima conferenza sulla traduzione e l'adattamento nel cinema nei cartoni animati e nei videogiochi! Quindi se vi può interessare non mancate, ok? Link all'evento in descrizione! Detto questo... CHIEGA!